Con riferimento alla conferenza stampa del Ministro Di Maio relativamente al parere dell'Avvocatura di Stato circa l'aggiudicazione dell'Ilva a Mittal, mi domando ma Di Maio è deficiente, è ignorante o è in perfetta e in assoluta malafede? Lo scopriremo, lo capiremo meglio attraverso quanto esporrò. Intanto Gigino Di Maio ha dichiarato a suo parere che l'aggiudicazione è illegittima e la illegittimità è stata anche sostenuta, è stata dichiarata dall'Avvocatura di Stato per tutta una serie di ragioni, per il fatto che il piano ambientale è slittato al 2023 e non più al 2016, per il fatto che nel proporsi alle varie realtà industriali potenzialmente acquirenti non vi è stato il rilancio, per tutta questa serie di ragioni ed altre per Di Maio l'aggiudicazione è illegittima. E qui emerge il Di Maio criminale. Criminale perché? Perché definisce questa vicenda come un delitto perfetto, però Di Maio da criminale e da pavido, da cacasotto, non ha il coraggio di annullare l'aggiudicazione e dice che per l'annullamento dell'aggiudicazione occorrono due elementi, questo lo dice ovviamente la legge, l'illegittimità e la lesione di un interesse pubblico concreto ed attuale. Di Maio si trova incastrato perché praticamente l'Avvocatura di Stato gli ha detto caro Gigino Di Maio, se devi annullare l'aggiudicazione lo deve fare l'amministrazione, ossia lo deve fare il tuo ministero. E qui Di Maio che cosa ha fatto? Lo diremo alla fine, ha preso tempo e ha scaricato la patata bollente, la valutazione del piano ambientale, l'ha scaricata al Ministero dell'Ambiente. È incredibile il comportamento di Di Maio, un senza palle, che pur riconoscendo questa situazione non annulla l'aggiudicazione stessa. Non solo, Di Maio ha il barbaro coraggio di dire che in tutta questa vicenda Mittal era in perfetta buona fede. Ancora una volta Di Maio fa il lecchino, il servo sciocco del padrone. E quindi Mittal è in perfetta buona fede. Anzi, Gigino Di Maio dice che intende proseguire il dialogo con Mittal. Guardate quanto è ipocrita questo Giuda. Da un lato parla di illegittimità, da un lato parla di delitto perfetto, dall'altro non ha le palle, lo ripeto, di annullare l'aggiudicazione, anzi parla anche, dialoga anche con Mittal. Questo è Gigino Di Maio. Lo dovete capire, amici a Cinque Stelle, persone che avete votato, soprattutto a Taranto, il Movimento Cinque Stelle. Ma c'è un problema di fondo ancora maggiore. In campagna elettorale, questo non viene sufficientemente evidenziato, il Movimento Cinque Stelle parlava di chiusura dell'Ilva. Poi si è scesi di livello e si è incominciato a dire chiusura delle fonti inquinanti, chiusura progressiva delle fonti inquinanti. Sul contratto di governo Lega Movimento Cinque Stelle c'è scritto chiusura progressiva delle fonti inquinanti e riconversione. Scusate, ma dove cavolo sta la chiusura? Dove scavolo sta la riconversione? Se Di Maio ha detto, apertis verbis, esplicitamente, dobbiamo contemperare occupazione e salute, come diceva Calenda, come diceva Renzi, come diceva Gentiloni. Quindi nessuna chiusura, nessuna riconversione, dialogheremo con Mittal. E siccome, lo sottolineo, l'Avvocatura di Stato ha detto, caro Di Maio, devi avere le palle, nel senso che l'annullamento della giudicazione la devi fare tu, la deve fare l'amministrazione, la deve fare il tuo ministero. Di Maio cosa fa? Dice, sapete, qui è una questione ambientale, bisogna valutare il piano ambientale e non sta a noi deciderlo. Lancio la palla al Ministero dell'Ambiente. Ecco perché io vi sto dicendo che Di Maio è un deficiente, è un ignorante ed è un criminale in perfetta malafide. Perché una persona che mi dice che quasi che non sapesse che la questione fosse ambientale e che si deve rivolgere al Ministro dell'Ambiente, lo ripeto, è un ignorante, è un deficiente ed un criminale. Perché solo queste tre categorie possono comportarsi in questo modo, con tutto il rispetto per i deficienti e per gli ignoranti. I criminali non li giustifico. Cioè ha fatto la scoperta dell'acqua calda, l'ex steward, l'ex bibitaro, ha scoperto che della questione ambientale si deve occupare il Ministro dell'Ambiente e scarica tutto a costa. Costa, poi ve lo raccomando, il grande generale dei Carabinieri, che già ha detto bisogna continuare sull'aia, l'aia già fissata dai precedenti governi, bisogna continuare sulla traccia del precedente impegno del Governo Gentiloni in ambito ambientale per quanto riguarda l'attuazione dell'aia. Signori, ma ci stiamo rendendo conto? Cittadini di Taranto, ma vi state rendendo conto? Associazioni di Taranto, ma vi state rendendo conto che questo cretino vi ha preso per i fondelli, che vi ha portato due volte due a Roma per farvi parlare 50 secondi, per dire devo studiare le 23 mila pagine e poi che fa? Dice la questione è ambientale, c'è l'illegittimità, c'è il delitto perfetto, ma io non l'annullo e passo tutto al Ministero dell'Ambiente e prendiamo altro tempo e la scadenza del 15 settembre si avvicina, ma ormai siamo agli sgoccioli, caro Di Maio. Signori, mi dovete scusare per lo sfogo, per il tono violento, ma è la rabbia da cittadino, da giornalista se ho dovuto usare questi termini. Solo un ignorante, un deficiente e un criminale si esprime così. E poi, falso e giuda che non sei altro, Di Maio, tu hai detto che dovevi chiudere l'ILVA, tu e i tuoi amici a 5 Stelle, i tuoi candidati ora eletti in Parlamento, chiusura dell'ILVA, ora stai trattando con Mittal. Vergognati, Mittal, un assassino più di riva. E aspetto voi, cari parlamentari tarantini a 5 Stelle, aspetto te, Rosalba Rosalbina De Giorgi, ti sto aspettando. Tu parlavi di chiusura, facevi la paladina dell'ambiente. Mi rivolgo a te, caro Vianello, caro Giovanni Vianello, deputato, hai detto dieci giorni fa, chiusura dell'ILVA, ti sto aspettando. Sto aspettando anche te, Gianpaolo Cassese, tu che fai l'uomo dell'agricoltura che difende l'ambiente. Voglio vedere cosa devi dire dinnanzi a queste malefatte di Di Maio. Sto aspettando Alessandra Ermellino, l'onorevole Alessandra Ermellino, quella che dice che non bisogna chiudere l'aeroporto, non bisogna aprire ai voli civili l'aeroporto Arlotta, perché sennò danneggiamo Bari e Brindisi. E sto aspettando te, caro senatore Mario Turco. Tu parli, parli, parli di legalità che deve attuare il Movimento 5 Stelle. Questa è la legalità? Questa è la legalità di Di Maio? Questo è Di Maio? Questo è quello che tu stai, hai abbinato il tuo nome di professionista a un soggetto che è un ignorante, un cretino e un deficiente. È un criminale. Beh, scusate lo sfogo, ma la rabbia, i cittadini continuano, i tarantini continuano a morire e continuano ad ammalarsi di cancro. I bambini, pensate all'episodio del bambino di morto che si è trovato nell'ambito delle varie analisi, proprio delle tracce di minerale nel cervello. E pensate a questo pagliaccio di Di Maio. Il bello è che, anzi il brutto, è che lo avete anche votato. Ma errare umano, perseverare è diabolico. Apri gli occhi, Taranto, aprite gli occhi, votanti a 5 Stelle, perché il tumore, in qualsiasi momento, potrebbe colpire uno di noi, così, alla cecata, come si suol dire a Taranto. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.